Amici e amici di Rossini TV, siamo di nuovo ad Urbino, siamo di fronte alla sede dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, diventata sempre di più protagonista di eventi che richiamano attenzione su tutto il nostro territorio. Oggi siamo qua per l'attribuzione del sigillo d'Ateneo al presidente Massimo Moratti, un nome che tutti conoscono, non solo gli appassionati di calcio, che riconoscono in lui uno dei più grandi e importanti presidenti dell'Inter. Presidente, nel titolo della sua lezione magistralis ci sono tre argomenti, lo sport, l'ambito del sociale e l'economia. Visti così sono 30-30-30, nel cuore di chi ci segue probabilmente il calcio ha predominanza, nel suo cuore? Nel mio cuore sinceramente c'è una predominanza, credo che sia alla paresa, perché credo che la predominanza dell'economico, che non è l'economico per l'economico, è l'economico legato a un discorso familiare, l'economico legato alla figura di mio padre, è qualcosa che è legato sicuramente alla storia della famiglia, quindi come Italia lo sento molto forte. C'è il fascino poi di un mestiere che comunque è interessantissimo, variabilissimo, rischiosissimo. E dall'altra parte poi c'è lo sport, lo sport ti rende popolare, ti porta via il cuore, ti riempie assolutamente le giornate e la vita, ma comunque sono due cose un po' come fascino su di me, sono tutte e due un po' alla pari. Lo sport è quella situazione nella quale le grandi gioie vengono condivise con centinaia di migliaia di persone. L'effetto di chi dirige una situazione che porta a tutto questo, qual è? No, lei ha centrato il problema, noi in casa mia insomma il calcio l'abbiamo sempre visto soltanto sotto questo profilo qua, cioè riuscire a fare una cosa che facesse contenti tutti e quindi poi quando le cose van male insomma ci sentiamo in dovere di ricominciare da capo, di cercare di farcela e ce l'abbiamo fatta, sia papà molto bene, ma molto bene mio padre e poi qualche cosa anch'io alla fine. Quindi il destino ci ha premiato in questo desiderio di vedere la gente felice e la gente alla fine era felice ed è importantissimo ed è bellissimo, però è automatico, cioè se uno vuole bene a una squadra di calcio e questa squadra di calcio vince, è chiaro che è felice, insomma che sia felice. L'individuazione dei premiati avviene anche con rapporti con il mondo dell'imprenditoria, con il mondo della cultura, quindi l'individuazione della figura di Massimo Moratti è avvenuta anche in questo caso seguendo queste linee. Quindi io all'inizio la comunicazione l'ho fatta avere tramite il contatto, poi però ho avuto modo di parlarci e era piacevolmente colpito, diceva come al solito ma non mi merito questo riconoscimento, poi c'è il problema di che cosa devo dire, io ho detto mi sembra che è una cerimonia, però spesso cerchiamo di farla rimanere su livelli molto semplici e quindi ho detto guardi lei parli di quello che le viene in mente in quel momento, di quello che pensa sia importante dare come messaggio e quindi a tutti i nostri amici.